tonti stai quando ti pare oh ti devi girare una cifra però vaiiii sbrigati no aspetta un attimo dai lo sto a fare io no aspetta un attimo noi ci chiamano i watch se senti eh eh ahahah ma che cazzo sta a dire dai sbrigati dg no aspetta te prego 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 mi regalino la sigaretta amore no aspetta te prego oh dg guarda che tu mio si sente eh vorresti pure cominciare no aspetta te prego no aspetta te prego ti mette troppo è uno serio vai dg siete tutto pronto si a me da coque quella per metterla oh basta che ti sbrighi aspetta un attimo metto un attimo altra canzone no metti questa canzone tuoch l'unica ma helicopter di per la 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 pagina veloce di gire per per la vita la vita di armonio la 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 attività carlo a più veloce la verità di salva attuale pericolosi 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 toputo più vicino al vediamo un attimo ahahah guarda e non l'hai sartato eh ahahah ahahah dai ora il gioco del bastone è stato fatto no ma che modo che fa quello che per te era che io giri così ma ma ti fa quello che per te era quelli dai ci fa pure quell'altro ma che cazzo mi so fa e acqua le mare e goglia no 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 dagli il sbotto ahahah no no ahahah ahahah allora non ti senti non ti senti no il merville è più fericoso siamo partita dove stava il ciccio portarci tua no non so è stato scosto coglione che c'era la carta in mano tanto devi girare è stato anche il busto e chiesi no non il busto è stato per terra vabbè perchè non ci arriva per terra si allora no io stavo tipo uno dei vicini che fai così senti il paracino sto per un cazzo vedi che il banzone è lei che si ha girato intorno così veloce allora dai lo fai dopo questo lo fai dopo dai ma che fai questo fai prima quello lì che stai eh figlio dai fagli tutti e tre dai se sottolta il maione fai mettermi è acqua porco dio oh dai 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 abbiamo gli soggetti dai 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 dammi un cracker hai detto eh non è che da gli evitati guarda che te ne vado a fare e per più perchè giri troppo un po' quando fai lo titolo guarda che c'è più vicino a quello perché sta dritto fa quello che ti ho detto io io ti ho detto io si ma il bastone deve toccarlo così deve toccarlo per sera il bastone no poi ci fanno proprio con le pc dai 3 2 1 via velace 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 c'è il cazzo a te ne vado dai 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 oddio dai 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 ora allora dai adesso buttalo dai dai vada 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 i vada vada e dai che tornavo la prima sartalo ora è peggio è peggio regalo sartalo sartalo dai sartalo sartalooo vai sartano avanti dai va qua a digi ecco a digi ecco ma lei mo ti fa quello che ti dico io che sei con cappettera no ma 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 io no ma diggi no ma quello che so di io o quello che o butti per te vai 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 fai questa dai bello ho trovato la mia ahahah io non ho capito questa ahahah no a lei no a lei a lei una pezza le buffiette c'è stato porco dio no no a lei dai sei un coglione che cosa fa a lei le buffiette eccellenza no a lei spostate prego che sta c***a ma famo quest'altro e sto video deve essere finito eh infatti dai famo quest'altro sbloccalo qui sennò che c***a me scaccia a te a te a te a te a te a te a te